Benvenuti alla Bibbia Sorprende, il programma in cui la storia, l'archeologia e la Bibbia si fondono per dare risposta alle grandi questioni dell'uomo. Nella puntata di oggi vedremo Gesù è esistito? È un personaggio storico o è un mito religioso? Gli storici parlano di lui? Cosa dicono a riguardo? Chi era Flavio Giuseppe? L'agnello, un simbolo presente dalla Genesi all'Apocalisse. E per la nostra rubrica miti da sfatare, Gesù era omosessuale? Gesù Cristo, uno degli uomini più conosciuti della storia. Ma è davvero esistito? Storicamente Gesù Cristo è davvero esistito? In questa puntata analizzeremo alcuni dati storici che dimostrano che Gesù è realmente esistito. Gli storici romani dell'epoca di Gesù ne fanno menzione nelle loro opere. Gesù era un personaggio storico. Cornelio Tacito, ad esempio, uno storico romano del primo secolo, che visse a lungo e conobbe sei imperatori, riporta Venivano comunemente chiamati cristiani ed erano odiati per i loro eccessi. Cristo, da cui derivano il nome, fu messo a morte da Ponzio Pilato, procuratore della Giudea durante il regno di Tiberio. Ma la perniciosa superstizione, sebbene soppressa per un certo periodo, si propagò nuovamente. Come si può notare, non gli andavano a genio nel cristianesimo o nella figura di Cristo. Consideravano tutta la faccenda odiosa un'erpaccia da sradicare. Tuttavia, ciò permise che ne restasse traccia nella storiografia, che oggi assurge a testimonianza storica della persona di Gesù. Altro imperatore storico fu Svetonio, della corte di Adriano. Nella sua opera Vita dei Cesari, Libro Quinto riferisce, dal momento che gli ebrei provocavano continui disordini a causa dell'insurrezione di un certo Crestus, egli, Claudio, li espulse da Roma. Qui si menziona Crestus perché in realtà si parla di Cristo. In effetti, l'imperatore scacciò da Roma sia gli ebrei che gli cristiani. Di certo, il testo più impressionante è il resoconto di Flavio Giuseppe, uno storico ebreo a servizio dell'impero romano. Nella sua opera Antichità Giudaiche riporta quanto segue. In quel tempo viveva Gesù, uomo saggio, semmai si possa chiamare uomo, giacché operava meraviglie, maestro di tal portata che la gente accoglieva la verità con delizia. Egli era il Cristo e quando Pilato, istigato dai nostri capi religiosi, lo condannò alla croce, coloro che lo amavano fin dall'inizio non lo abbandonarono, poiché egli apparve in mezzo a loro di nuovo, vivo, il terzo giorno. I profeti di Dio avevano predetto questo, e oltre diecimila cose meravigliose su di lui. E la tribù dei cristiani, così chiamati a motivo di lui, non si era ancora estinta, fino ad oggi. Impressionante che un ebreo usasse scrivere tutte queste cose su Gesù. Certo ne scriveva a beneficio della storia romana, ma in quanto ebreo, considerando la forte pressione sui cristiani, dimostrò davvero di avere molto coraggio. Da storico scrive, Oggi, nel ventunesimo secolo, anche noi possiamo dire la stessa cosa. Quella tribù, quella dottrina dei cristiani, non si è estinta, fino ad oggi. Abbiamo passato in rassegna alcune testimonianze storiche di uomini vissuti a quel tempo, seri storiografi che ci hanno lasciato testimonianza scritta di quell'uomo che camminò per le vie di questo mondo. Gesù Cristo, un personaggio storico. Restate con noi per il prossimo servizio. L'agnello, un bellissimo simbolo. L'agnello è un animale inoffensivo, senza artigli, senza zanne o corna con cui attaccare gli altri. È un animale mansueto, pacifico, un simbolo di Gesù, il principe della pace. Fin dall'antichità, questo simbolo indicava la morte del Salvatore. Nel libro di Isaia, al capitolo 53, era stato profetizzato Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, scacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non ha perse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non ha perse bocca. Sono parole solenni e toccanti. Il profeta Isaia poté vedere la missione di Gesù Cristo che avrebbe pagato per i peccati degli uomini, che avrebbe preso su di sé il castigo divino destinato alla razza umana. Questa è la meravigliosa promessa. Tu ed io siamo liberati perché Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Questa è la promessa di salvezza a disposizione di qualunque essere umano, perché qualcun altro ha pagato al posto nostro, Gesù Cristo, l'agnello senza macchia. Fin dall'antichità, fin dal tempo dei patriarchi, gli uomini sacrificavano un agnello sull'altare. Qual era il significato? Era chiaro. Essi attendevano un innocente che sarebbe venuto a morire al posto loro. Così, al tempo dei patriarchi, compivano il sacrificio nell'attesa di colui che sarebbe venuto a morire davvero per i loro peccati. In seguito, nel santuario israelita, ritroviamo lo stesso rito sacrificale con l'agnello e poiché anche nel tempio di Salomone e nel secondo tempio, sempre con lo stesso messaggio, un innocente verrà a morire al posto vostro. Sarà sacrificato per ottenere il perdono, verserà il suo sangue, darà la sua vita affinché voi abbiate vita. C'è un momento molto significativo nella storia quando Gesù Cristo è lì già pronto a morire per noi. Dio fa sorgere un profeta che lo riconosce e indicandolo dice ai presenti ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa significa? Che quell'uomo, Gesù, che era lì, era l'agnello di Dio, l'autentico, il vero agnello, quello che sarebbe stato sacrificato per togliere i peccati degli uomini. Proseguiamo con una serie di testi biblici. Galati 4.4 Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge. Ciò significa che dopo secoli di sacrifici rituali, Gesù sarebbe venuto prendendo un corpo umano, nel tempo indicato nella profezia. Giovanni 3.16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qui si spiega che Dio ha dato il suo figlio unigenito per assicurare la salvezza agli uomini. Prima Pietro 1.18-19 Sapendo che non sono cose corruttibili come argento o d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Il testo ci dice che Gesù è il vero agnello senza difetto e senza macchia. Matteo 27.50-51 E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. Ci viene detto che quando Gesù morì sulla croce, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, come se una mano invisibile lo avesse strappato, squalificando in questo modo il Tempio. Da allora in poi i sacrifici animali dovevano cessare. Non sarebbe più stato necessario sacrificare ulteriori agnelli, in quanto il vero agnello era già stato sacrificato sulla croce, pagando il prezzo per l'intera umanità. Nella Bibbia le testuali parole sono come di agnello senza macchia. Ma perché senza macchia? Nei sacrifici del Levitico. Gli agnelli con difetti non erano ammessi. Non si poteva sacrificare un agnello cieco o storpio. Doveva trattarsi di animali perfetti. Agnelli appunto senza macchia, perché dovevano rappresentare Gesù Cristo stesso, un uomo perfetto, un essere senza peccato, un uomo perfetto che avrebbe riscattato, con il suo sangue, tutti gli uomini. C'è ancora tanto da dire su questo agnello senza macchia. Restate con noi per il prossimo servizio. Rieccoci di nuovo con voi per la rubrica Miti da sfatare, dove passiamo al setaccio i miti della cultura del nostro tempo. Stavolta ci occupiamo del mito del cosiddetto Gesù omosessuale. Si va diffondendo sempre più l'idea che Gesù fosse o omosessuale o un sostenitore dell'omosessualità. Si fa riferimento ad esempio al fatto che dell'Apostolo Giovanni si dice che fosse l'Apostolo amato, così come al fatto che nella Bibbia è scritto che Gesù amava il suo amico Lazzaro, che Gesù amava Lazzaro. E poi si sottolinea spesso che Gesù non aveva una fidanzata. Innanzitutto, al capitolo 53 di Isaia è specificato che il Messia sarebbe morto per l'umanità e sarebbe morto senza lasciare discendenti. La sua generazione è chi la conterà? Dice la scrittura. Gesù è il secondo Adamo. Con il primo Adamo ha inizio la storia dell'umanità. Mentre Gesù è il secondo Adamo. Egli non ha progenie carnale. Va oltre. Dona la sua vita a tutti gli uomini. Gesù sapeva che sarebbe morto nella sua missione, che avrebbe perso la sua vita sulla croce e la sua missione non contemplava il mettere su famiglia. Al contrario, era in tutto e per tutto concentrato sulla sua opera di salvezza in favore degli uomini. E allora Lazzaro, in effetti Gesù amava Lazzaro. Ma la Bibbia dice anche che Gesù amava Marta e Maria e che gli piaceva andare a trovarli e trascorrere del tempo con loro. Li amava tutti e tre, nel senso che nutriva per loro un amore fraterno. Gesù ci ha insegnato ad amare e ce ne ha dato esempio amando di cuore tutte le persone. Ma non si trattava certo di amore romantico. Era un amore fraterno, un amore spirituale. È questo l'esempio che ci ha dato. In greco esistono tre diversi termini per la parola amore. Il termine agape per l'amore spirituale e fraterno. Il termine eros per l'amore romantico. Ed infine fileo per il rapporto filiale e familiare, l'amore nella famiglia. Ma nella lingua italiana abbiamo un'unica parola, amore, per esprimere questa complessità. L'amore di Gesù non era l'amore romantico, bensì l'amore agape, l'amore spirituale. Rileggiamo in Giovanni 3,16 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Esattamente, Dio ha tanto amato il mondo e non di un amore romantico, ben inteso, ma di un amore divino. Gesù ci ha amati col medesimo sentire e ha amato Lazzaro, Maria e Marta così come tutti noi allo stesso modo. Giovanni 15,13 dice Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. vale a dire che secondo la Bibbia fu l'amore che Gesù aveva a portarlo, a dare la sua vita per noi. E qui non si tratta di amore romantico, ma di amore divino, un amore salvifico per te e per me. E il pensiero di Gesù su famiglia e coppia è chiaro nella Bibbia? È più che chiaro. E non solo quando parla di divorzio o di adulterio, ma anche quando parla della coppia umana. Gesù dice in Marco 10,6-7 ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. A chiare lettere Gesù ci trasmette il suo insegnamento su questo argomento. Non è un insegnamento a supporto dell'omosessualità. È un insegnamento che legittima la coppia umana, il matrimonio tra l'uomo e la donna. L'amore che Gesù insegna è abbondantemente spiegato nella Bibbia e l'Apostolo Paolo ne dà una straordinaria descrizione in Prima Corinzi 13 a partire dal versetto 4. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Proprio in questo Gesù è stato un maestro dell'amore, non di un amore romantico, il solo dirlo è quasi blasfemo, ma dell'amore spirituale, di quell'amore che tu e io abbiamo bisogno di imparare, di quell'amore che può cambiare le nostre vite. Pertanto, il mito del Gesù omosessuale da qui lo dichiariamo sfatato. Ti invitiamo a non perderti la prossima puntata di La Bibbia sorprende. A presto! In questa puntata abbiamo imparato Gesù fu un personaggio storico menzionato nei documenti dell'epoca. Anche lo storico Giuseppe Flavio attestò del lato soprannaturale di Gesù. L'agnello senza macchia è un simbolo di Gesù Cristo, la vittima innocente, il sacrificio volontario per l'umanità. Quello insegnato da Gesù non è un amore romantico, ma l'amore altruista, nobile ed elevato, un amore spirituale frutto di un miracolo. Ved Ambini o Vogliamo Resulta Rewd Grazie a tutti Grazie a tutti